il piccolo cane baddi sono seduti dietro 56 secondi che i genitori avranno guardato e riguardato migliaia di volte 56 secondi di un bel ricordo da custodire ora che quei giorni sono lontani ora che alessandro non c'è alessandro venturelli è scomparso si è allontanato dalla sua casa di sassuolo e non è più tornato è un sabato di dicembre quella mattina alessandro che tutti chiamano alle si sveglia nervoso esce e va a trovare la zia e poi fa un giro in macchina torna a casa e dopo pranzo va in bagno ad aggiustarsi le basette è inquieto però qualcosa non va qualcosa lo turba a un certo punto alessandro apre la porta il padre gli chiede dove stia andando il ragazzo risponde che deve uscire un attimo in giardino in realtà ha già lanciato dal balcone il suo zainetto e vuole allontanarsi a quel punto il padre roberto capisce cosa sta succedendo e riporta il figlio in casa tutto sembra rientrato quegli attimi li registra l'occhio di una telecamera sono le 14 e 42 roberto propone al figlio di fare un giro in macchina escono dal cancello pedonale il piccolo cane però li segue e roberto venturelli si attarda per riportarlo in casa pochi istanti il padre di alle ritorna in strada ma suo figlio non c'è più lo cerca subito roberto gira per ore e ore a sassuolo e nei dintorni niente continuerà a cercarlo ovunque assieme a sua moglie per settimane per mesi per anni da quel pomeriggio di dicembre sono passati 1117 giorni decine di segnalazioni foto di presunti alessandro sono arrivate da ogni parte d'italia ed europa anche dall'olanda niente alle non è stato rintracciato e allora bisogna continuare a mostrare le sue foto e gli invecchiamenti perché questo ragazzo potrebbe aver bisogno d'aiuto quando è scomparso alle non stava bene viveva un periodo di grande difficoltà potrebbe essere stato confusionale chissà dove oppure peggio potrebbe essere finito nelle mani di gente senza scrupoli questa è la grande paura dei suoi genitori roberto e roberta un papà e una mamma che non si sono mai arresi dopo più di mille giorni continuano a chiedere che le immagini vadano avanti che alle venga finalmente ritrovato ciao roberta grazie di essere qui grazie a voi chiedo scusa ma io qua piango tutte le mie lacrime eh lo so amore mio è normale sono le lacrime di una madre che cerca il proprio figlio sono le lacrime di disperazione di non sapere dove è finito Alessandro se qualcuno gli ha fatto del male se è finito in giri sbagliati se è scappato per proteggervi eh se non si fa sentire perché ha paura che qualcuno gli faccia del male se non lo trova non fa del male a voi eh questo non non si riesce a capire non si riesce a sapere le segnalazioni sono state tantissime tantissime c'è un fatto però che va raccontato eh Alessandro credo forse i giorni prima di sparire annotava le targhe delle macchine che arrivavano in quella stradina allora quella stradina che voi vedete diciamo davanti al cortile di casa è una strada privata dove passano pochissime macchine cioè passano solo le macchine delle abitazioni eh delle persone che abitano lì cioè non ci sono di solito passaggi di automobili diversi da quelli che conoscono e Roberta aveva notato invece che eh loro cioè che Alessandro scusami continuava ad annotare le targhe di alcune macchine in particolare un paio di macchine che stava vedendo spesso arrivare in quella in quella stradina e che non erano usuali per quel luogo giusto Roberta? Esatto ci racconti bene questo questo è un dettaglio importante? Sono è un dettaglio importante che per gli inquirenti doveva essere fondamentale per capire quelle targhe ma tu quelle targhe di quelle macchine le hai tenute in qualche maniera o ce le aveva Alessandro le ha portate via con sé? Le ha portate via con sé però una siamo riuscite a risalire perché sembra essere la macchina di un signore che abita vicino a noi di un'altra non so niente un'altra non purtroppo non so niente però questa delle macchine è uno dei tanti dettagli che noi abbiamo raccontato gli inquirenti in maniera proprio molto chiara e da qui nasce la mia rabbia perché perché allontanamento volontario perché? Allora gli inquirenti hanno segnato questo caso come allontanamento volontario ma poi l'avevano cambiato? L'hanno cambiato le onore soprattutto dopo la pressione mediatica diciamo della tv anche nostra insomma del programma ma non perché noi facciamo pressione mediatica perché hanno capito che ad Alessandro qualcuno probabilmente stava facendo del male o era finito in qualche giro strano che non era un allontanamento volontario giusto? Giustissimo il problema è che quando è stato aperto il fascicolo per sequestro di persona contro ignoti comunque quello che poteva fare la differenza che era appunto visionare tutte le telecamere possibili immaginabili non era più possibile farlo quindi noi ci troviamo dopo tre anni ancora nella stessa situazione dove siamo circondati da un silenzio assoluto perché non abbiamo risposte a tante domande l'unico rumore facciamo io e mio marito però siamo stanchi leonora allora l'altra nota poi sentiamo gli ospiti l'altra nota importante su questo caso è che Alessandro nell'ultimissimo periodo aveva iniziato a mostrare dei segnali di paura come se fosse sotto minaccia di qualcuno un giorno chiedo silenzio studio scusate un giorno Alessandro parla con sua madre le dice ti prego stai attenta quando esci di casa fai attenzione perché di che cosa doveva avere paura Roberta di chi doveva avere paura era finito forse in qualche giro strano di persone che lo stavano minacciando o che lo stavano pedinando seguendo ragazzo molto giovane magari avrà sbagliato qualcosa magari si è infilato in qualche no personaggio pericoloso aveva secondo te Roberta paura di qualcuno lui continuava a dirti che aveva paura ma tu non sei riuscita a capire lui non ti voleva raccontare tutto non ti voleva parlare nella totalità di quello che aveva dentro perché forse lo doveva nascondere anche a te forse come lo sta nascondendo anche in questi anni come lo ha nascosto in questi anni per proteggerti hai mai pensato a questo ci ho pensato tanto Eleonora ci ho pensato tanto e devo dire che in quei giorni noi sia io che mio marito ovviamente abbiamo dedicato tanta attenzione a questa situazione lui mi diceva mamma io mi sento manipolato io ho paura mamma stai attenta quando vai in giro che non ti facciano del male prendeva appunto le targhe di queste due macchine ha dormito con me per dieci giorni prima di allontanarsi cioè era proprio in uno stato che lui ha manifestato chiaramente come si sentiva quello che io e mio marito non siamo riusciti a farci dire nonostante mi ripeto tutto il tempo che gli abbiamo dedicato che cosa stava succedendo perché poi Eleonora davanti e lo dico sempre questo è il mio senso di colpa davanti a tanto malessere io volevo rispettare i suoi tempi volevo volevo fargli capire che ero lì e che ero lì per aiutarlo per ascoltarlo senza però fargli una pressione troppo forte perché avevo paura di farlo stare peggio certo che se avessi saputo che dopo dieci giorni non avrei più avuto tempo sicuramente avresti cercato di capire di più cioè tu hai cercato di rispettare i tempi di tuo figlio ma è chiaro anzi mi sembri anche una persona molto rispettosa una mamma sempre straordinaria presente come ognuno di noi ogni genitore di momenti difficili che voi stavate anche passando ma questo non significava nulla tu hai avuto l'impressione che quando ti diceva mi sento manipolato si sentisse manipolato da qualcuno di esterno di fuori dalla famiglia io ho pensato di sì e proprio per questo visto che con noi non si apriva l'avevo portato dallo psicologo due giorni prima per cercare di capire se e allo psicologo lui che cosa ha detto? non ha detto niente di diverso di quello che ha detto ma fra l'altro Eleonora lui ha voluto che io lo accompagnassi in questa seduta quindi io ero dentro con lui è interessante questo fatto ha voluto che l'accompagnassi come dire aiutatemi in due se devo dire qualcosa ma evidentemente se c'è allora sono due o sta talmente male che è un delirio persecutorio nel quale dice voglio tutelare i miei genitori andando via oppure non voglio non so questo non lo sappiamo perché non abbiamo però il fatto importante è che non è riuscito a fare un aggancio per dire come stava né dire sto male penso ho fantasie mi sento o dire è successo qualcosa ecco io mi ricordo queste trasmissioni Eleonora che tu hai fatto tante volte adesso ma le ripercorriamo perché ci sono tantissime ora possibile che lui non ha visto il segnale che non gli è stato dato quindi un motivo di nascondersi ce l'avrà o perché sta male o perché c'è qualcosa dalla quale vi tutela si tutela e vi tutela io fra l'altro voglio dire una cosa a proposito di questo discorso ovviamente il mio portarlo dallo psicologo era un capire se era qualcosa che stesse male oppure la speranza di dire magari con una persona esterna quello che però in questi tre anni ovviamente io valuto ogni minuto dico se fosse stato veramente così male da fare quello che ha fatto nei giorni successivi avrebbe avuto secondo me degli atteggiamenti che veniva notato da qualcuno e siccome noi abbiamo diffuso immediatamente la scomparsa di Alessandro mi chiedo qualcuno lo avrebbe notato secondo me sì fra mille persone uno che dice aspetta questo ragazzo in difficoltà chiamiamo cioè allora quello che lamenta questa mamma sono le indagini che secondo loro non sono partite nella maniera corretta perché è chiaro che se tu apri un'indagine ma la dichiari come allontanamento volontario no Mauro tutte le pratiche per andare avanti cioè filmati le telecamere di quella strada purtroppo i filmati subito dopo perché quando Alessandro è andato via lì in quella in quell'altra strada quella principale le telecamere ci sono per cui la stazione uno capisce dove va non va e poi ci sono altre segnalazioni adesso ne parleremo anche all'estero io voglio dire brevemente che purtroppo questi casi accadono spesso sulla scomparsa non c'è quell'attenzione immediata che invece è necessaria recuperare le telecamere non costa nulla metterle da parte e casomai poi analizzarle avremmo potuto magari scoprire che lui ha preso un treno ha preso un treno non lo so per Milano e avremmo spostato immediatamente le ricerche lì invece noi ce lo siamo dimenticato perché quando superi 18 anni se scompari non ti cerca nessuno è chiaro che lo dico col massimo del rispetto quindi posso dire delle stupidaggini ma la disperazione con cui il padre cerca di trattenere il figlio vuol dire significa che il padre immaginava che lui potesse andare via appunto poi quindi c'era sicuramente qualcosa di più evidentemente lui il ragazzo che annota le targhe non è normale è un'anomalia assoluta cioè c'è qualcosa anche lì di più io ricordo la storia perché se non sbaglio anche Sassuolo Calcio fece un appello del genere esattamente per Alessandro esatto, sì per Alessandro sì, lo stanno aiutando ancora Sassuolo Calcio questa storia sinceramente non ma anche la sfortuna di andare a seguire il cane io cioè esce il cane vai dal cane non dal figlio cioè ci sono una serie di situazioni che paradossali cioè però è vero che è forte la scena in cui allora quella scena lì la rivediamo per favore possiamo rimetterla un attimo in cui il papà cerca quasi come un reggbista di bloccare ma dopo volevo rispondere un attimo vedete che cerca di fermarlo non vi ha protetti ma qui avevano litigato ma qui avevano litigato cioè che cosa quella mattina allora questa scena qua che sicuramente è una scena per chi la vede è una scena fortissima scusate scusami stavo stavo parlando no 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 eravamo sulla scena volevo rispondere un attimo questa scena che sicuramente è una scena brutta è come dice lei il papà che abbandona il figlio e va dal cane non è così cioè allora Alessandro dopo questi dieci giorni di malessere si sveglia la mattina arrabbiato con me mi dice di ogni ma senza nessun motivo quindi era una mattina che noi eravamo molto in allerta perché mi dice mamma non vale niente mai tenuto vent'anni sotto una campana di vetro non sai fare niente cioè un figlio con cui ho sempre avuto un rapporto fortissimo per chiudere esatto poi Alessandro si allentana va in questo paesino poi mi chiama mamma scusa ti ho voluto bene viene in casa prende il piatto va a mangiare su nella sua camera cioè era una giornata stranissima al pomeriggio quando mio marito lo vede in un atteggiamento molto sospettoso si taglia le basette lo teneva sott'occhio e quando Alessandro gli dice papà vado giù a fumare una sigaretta e Robby dice dove vai che piove fortissimo Alessandro si precipita giù per le scale mio marito lo segue a quel punto si accorge che c'era lo zainetto per terra che Alessandro aveva buttato giù dalla finestra e Alessandro si precipita corre verso il cancello con questo zainetto e mio marito ha capito chiaramente che lui stava scappando e quindi lo porta dentro con tanta forza quando si sono calmate un attimo le acque che gli dice Alessandro facciamo un giretto in macchina facciamo due chiacchiere Alessandro la consente apparentemente era calmo salgono in macchina Robby dice è uscito il cane un secondo ma un secondo lo porto dentro e il figlio non c'era più quindi è paradossale se uno non conosce e vede queste immagini ma io non stavo mica incolpando nessuno no certo no è che chiaramente vedendo queste immagini Ivan dice probabilmente era la sensazione aveva capito aveva capito il fatto nodale in questa vicenda consentitemi è come al solito quando si vanno a interpretare giuridicamente dei fatti sui quali bisognerebbe semplicemente intervenire esatto cioè rispetto a un racconto del genere dove viene rappresentato ipoteticamente indiziariamente una situazione di pericolo una situazione in cui un ragazzo dice di sentirsi minacciato dove un ragazzo ha riferito alla programma e c'è una denuncia chiara non si può archiviare un procedimento con superficialità andando nella direzione di dire è un allontanamento volontario fai gli accertamenti verifica a limite forse ti capiterà anche di aver perso tempo però in quel modo vai a determinare le condizioni di sicurezza rispetto a quello che è il delegativo familiare e quello è il tema vengono sottovalutate tante denunce così allora ascoltiamo una delle prime segnalazioni che sono arrivate a Padova pronto? sono passati dieci mesi dalla scomparsa di Alessandro Venturelli era il 5 dicembre del 2020 e noi ci troviamo a Padova perché proprio da Padova è arrivata una segnalazione una donna ha contattato la mamma di Alessandro Roberta segnalando la presenza di un ragazzo molto somigliante al suo figlio lo avrebbe visto all'interno di un locale noi proviamo a cercarlo proprio qui in questa città Veneta vabbè noi continuiamo l'avete mai visto qui? sinceramente non mi può non mi spiace l'avevo finire mai tanto come l'avevo l'avevo visto tre volte mi spugita tu pensi di averlo visto ha dei tatuaggi sulle braccia agli orecchini a qualcosa ma ti chiamo Alessandro? sì mi sembra mi sembra dove potrebbe averlo visto? in stazione allora qui avevano detto l'hanno visto in stazione poi ci sono state delle ricerche ma sembrava non fosse lui comunque se era lui cioè l'uomo del mistero o questo ragazzo che è stato visto che forse gli assomigliava ma non era lui ma forse era lui cioè diventa tutto difficile sicuramente si cerca però nelle stazioni nei parchi in quelli che noi definiamo i non luoghi cioè dove le persone ad esempio senza fissa dimora abitano e occupano questi non luoghi perché appunto sono come dire erranti dunque pubblicità adesso mando la pubblicità fra poco noi manderemo un'inchiesta che abbiamo fatto su questa scomparsa perché siamo stati ad Amsterdam e vedo l'avvocato il vostro avvocato collegato fra poco vi mostreremo tutto quello che noi abbiamo scoperto e dove ad un certo punto ci siamo fermati arrestati anche noi perché non si riesce più andare avanti per questo motivo del quale parlava prima Roberta cioè c'è bisogno di fare un upgrade per il procedimento di indagine anche all'estero allora fermi lì 30 secondi di pubblicità e poi ritorniamo ragazzi io non ho parole non ho veramente parole allora Claudio Falletti buongiorno legale della famiglia Venturelli dicevo io non ho parole perché praticamente noi siamo stati ad Amsterdam c'è stata una segnalazione importantissima sulla scomparsa di Alessandro perché se fosse appena collegato ci stiamo occupando di un ragazzo che è sparito da più di mille giorni i genitori lo stanno cercando non sanno che fine abbia fatto però si sta lavorando su una pista in questa città dove noi siamo stati adesso vi mostriamo ad un certo punto però anche noi con le indagini giornalistiche abbiamo dovuto fermarci perché? perché non gli hanno dato la rogatoria per continuare le indagini e per chiedere aiuto alle autorità che scusate ma trovo una cosa folle perché voglio dire ma cosa costa visto che un ragazzo è scomparso cercare di aiutare sta famiglia no? è una carta in più che va firmata vabbè sentite intanto dove siamo arrivati guardate dove siamo arrivati noi se immagino Alessandro in questo momento lo immagino come non è mai stato cioè disordinato forse neanche troppo pulito non faccio fatica a pensare ad Alessandro come era quando era a casa molta fatica Amsterdam è da sempre una città particolarmente amata dai ragazzi molti dei quali italiani ed è proprio tra loro che decidiamo di cercare Alessandro sinceramente no ma condividerò le foto con i miei colleghi per fare un passaparola e cercare di ritrovare a Italia television io lo ritrovo Italia vengo da Parma se abbiamo visto no senza utilizzare documenti come può muoversi in questi paesi senza utilizzare documenti non si può trovare lavoro magari si può trovare un lavoro in nero continuiamo la nostra difficile ricerca ad un certo punto mamma Roberta si ferma si guarda attorno fatica a trattenere le lacrime i ricordi riaffiorano questo è un luogo che hai visitato con Alessandro insieme ai tuoi nipoti e alla tua famiglia come dicevamo e qui tuo figlio ha fatto una foto tranquillo riposati carta di identità carta di credito e lo zainetto aveva? no la domanda è ha portato via anche i documenti aveva una carta di credito soldi come fa una persona a muoversi i soldi dopo qualche giorno finiscono i documenti c'erano nello zainetto c'era anche una carta di credito ma non l'ha mai utilizzato era già premonito era pronto era pronto allora noi ad un certo punto ciao vedo anche Roberto Alessi collegato ciao Roberto ad un certo punto chiediamo alle autorità locali come potevano fare per diffondere la foto di Alessandro lì sentite che cosa ci hanno risposto il nostro viaggio continua fino al centro della città di Ilversum Roberta non si arrende chiede aiuto alle autorità locali lei dice Alessandro è registrato in Olanda quando lui fa qualcosa con sua carta di identità video in macchina troppo forte la solice fa così stop direttamente alessandro ventorelli scomparso lui è registrato ma fino adesso niente non è stato niente lei ha detto anche con questa indicazione per noi è impossibile cercare per Alessandro l'agente di polizia con cui abbiamo parlato suggerisce a Roberta di postare la foto di Alessandro su un sito che si occupa degli scomparsi gestito dalla polizia però mi pare di capire che di Alessandro non ci sia alcuna traccia almeno non sarebbe stato mai fermato zero 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 con 57 anni non mi hanno mai fermato neanche quindi andiamo il mio venire in Olanda non esclude tutto aperto quindi per me rimane tutto aperto tutto qualsiasi possibilità questa situazione destituzione la nostra famiglia non so ma è un regio allora è veramente una storia che ha dell'incredibile adesso fra poco manderò anche l'ambasciatore vicequestore vediamo che cosa ci hanno risposto scusi avvocato ma voi avete chiesto questa rogatoria ma non è ancora arrivata dopo tre anni perché noi ci siamo fermati in quella particolare città dove abbiamo portato Roberta perché lì praticamente avevate rintracciato le coordinate del telefonino di Alessandro cioè non è che siamo andati lì a caso sì allora innanzitutto buongiorno a tutti ci terrei a dire una cosa si è parlato di allontanamento volontario e su questo punto vorrei fare una precisazione anche perché se Alle avesse avuto intenzione di sparire in maniera volontaria avrebbe trovato qualsiasi momento della giornata o qualsiasi altro giorno per allontanarsi senza la presenza dei genitori invece è sparito proprio alla presenza di Roberta e di Roberto in una circostanza specifica e di fretta in agitazione la nostra sensazione sin dal principio è che qualcuno potesse attenderlo fuori avete visto che Roberto è rientrato per mettere dentro il cane ma nella frazione di mezzo secondo Alessandro si è come volatilizzato quindi a questo punto c'è la domanda nasce spontanea ma c'era qualcuno fuori ad aspettarlo quindi il primo nostro dubbio che non è stato possibile sanare proprio perché le telecamere nell'immediatezza non sono state acquisite quindi nessuna possibilità di vedere quale direzione possa aver preso Alessandro e quindi noi ci troviamo adesso alla seconda richiesta addirittura diciamolo di archiviazione da parte della procura nei confronti della quale abbiamo dovuto fare l'ennesima richiesta di opposizione all'archiviazione siamo ancora in attesa che venga fissata l'udienza davanti al GIP ma per quale ragione abbiamo parlato di questo ordine di indagini europeo c'è un fascicolo ancora aperto nonostante la richiesta di archiviazione perché ancora il giudice non si è pronunciato noi ci siamo opposti per sequestro di persona a carico di ignoti bene nell'ambito della cooperazione penale e delle indagini secondo lei perché come si può spiegare qual è la difficoltà di mandare avanti le indagini perché le indagini costano non lo so mi dica lei che cosa ma no ma non credo proprio perché l'ordine europeo di indagini è una decisione giudiziaria che viene emessa una richiesta dalla procura e deve essere convalidata dall'autorità giudiziaria di un altro paese per poter fare delle indagini in quel paese alla base cosa c'è deve essere un atto necessario proporzionato e consentito in casi analoghi beh in questo caso necessario lo è assolutamente ed anche proporzionato è giustificato da che cosa dalle segnalazioni dirette di alcune persone sul fatto di aver visto Ali e averlo comunque in qualche modo riconosciuto le coordinate e tutte le ricerche che Ali ha fatto sull'Olanda e quindi abbiamo proprio delle ricerche specifiche fatte da lui col telefono con il computer quindi che ci portano in Olanda e noi abbiamo le mani legate perché in Olanda non possiamo cercarlo come si deve cioè non si possono fare delle indagini analogamente a quelle che possono essere condotte in Italia proprio perché non è stato emesso quest'ordine di indagine europeo che deve essere convalidato dall'altro paese ora dico alla nostra autorità giudiziaria ma voi emettetelo ma che cosa vi costa dall'altra parte dovranno anche decidere se accettare o no questa richiesta ma noi emettiamolo perché noi oltre alle indagini compiute dalla procura noi siamo soli anche perché le famiglie e gli avvocati che fanno tutte le attività di indagine anche a livello privato arrivano fino ad un certo punto oltre il quale non riescono ad andare le istituzioni per noi sono fondamentali perché se non li ricerca la nostra autorità giudiziaria noi da soli fin dove possiamo arrivare e ci sono molti elementi che noi abbiamo solitolineato nell'atto di opposizione all'archiviazione che devono essere ancora approfonditi che vogliamo che vengano approfonditi ne dico uno quello che secondo me è più importante non sono mai state richieste le impronte digitali noi sappiamo che nelle nuove carte di identità elettroniche si mette l'impronta digitale un'impronta digitale che è conservata negli archivi del ministero e che non è stata mai acquisita ora se parliamo di una persona scomparsa e quindi non morta perché noi cadaveri non ne abbiamo mai trovati queste impronte digitali devono essere messe a sistema perché se aspettiamo che Alessandro venga identificato attraverso un normale controllo di routine cosa gli facciamo all'esame del DNA quando lo fermiamo in macchina se succede qualcosa ma guardate che le autorità olandesi io adesso mando questo pezzo sono molto disponibili assolutamente e questo che dico è veramente un peccato ma non si capisce perché ci siano questa difficoltà perché ci sia la volontà di archiviazione di un caso dove palesemente questo ragazzo perdonatemi sembra sembrava sotto minaccia di qualcuno manipolato da qualcuno seguito impaurito cioè è talmente evidente io credo che un attimo ma adesso ve lo confermerà anche Claudio allora a noi io torno dall'Olanda in aprile circa no fine marzo dove mi danno questa massima disponibilità parlando con l'avvocato ordine di indagine europeo loro cosa fanno mi manda la nostra procura di Modena mi manda la seconda domanda d'archiviazione fine aprile primi di maggio a cui segue un silenzio assoluto perché è dicembre Claudio è dicembre non abbiamo nessuna risposta perché viene sottovalutata la scomparsa di Alessandro sono cattiva hanno fatto talmente tanti errori che mi vogliono portare allo sfinimento prima o poi questa mamma si stancherà no 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 Eleonora non mi ha mai chiamato una volta io non ho mai parlato con il PM avvocato intervenga lei perché io non posso fare contro una procura scusi ma no 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 io da avvocato posso dire delle domande ma non spiegare dei giudizi con le procure no 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 grande fiducia ovviamente nella giustizia perché altrimenti non potremmo andare avanti sicuramente qualche sforzo in più qualche aiuto in più qualche attenzione in più la desideriamo nel senso che noi non possiamo andare oltre da soli noi dobbiamo affidarci al nostro sistema giudiziario per avere tutte le informazioni d'altronde lo hanno aperto loro il fascicolo per sequestro di persone va bene è contro i gnoti attività ne è stata fatta non possiamo dire che la procura ha aperto un fascicolo e ha lasciato i fogli vuoti però è stata fatta l'attività in Italia ma se c'è stato un recupero del telefono e delle celle telefoniche che hanno agganciato in Olanda perché non continuare in Olanda e questa è la nostra la nostra richiesta è proprio quella visto che c'è un segnale anche fuori territorio e noi dobbiamo approfondire le ricerche anche fuori territorio ma da soli come facciamo sappiamo che esiste questo strumento abbiamo a disposizione la possibilità di un ordine europeo di indagine che metta l'altra autorità giudiziaria nelle condizioni di poter indagare effettivamente e allora noi desideriamo con tutto il cuore che questa attività possa essere compiuta anche perché abbiamo molti elementi da approfondire ancora noi Alessandro per noi Alessandro è scomparso Alessandro non è morto scusate la crudezza quindi uno scomparso deve essere cercato e deve essere trovato noi sicuramente continueremo senza sosta cercarlo ma abbiamo ovviamente necessità di aiuto da parte delle istituzioni il problema il collega ha ragione sa perfettamente qual è il problema reale sotto il profilo burocratico è brutto utilizzare questo termine rispetto alla vita delle persone il dato drammatico è questo nel momento in cui viene fatta una richiesta di archiviazione il magistrato e il pubblico ministero si produce in un atto che è l'atto finale rispetto alle indagini svolte fino a quel punto è evidente che poi c'è l'opposizione della difesa e ci sarà un'udienza il problema è la longaggine della fissazione dell'udienza oggi che cosa potrebbe accadere mi auguro che attraverso questa trasmissione il procuratore di Modena che so essere una persona estremamente capace e preparata voglia fare una riflessione come capo del suo ufficio possa fare non quello che è un passo indietro ma un passo in avanti sulla base di una nuova emergenza cioè nello stesso tempo non rinnegare l'attività del suo ufficio ma addirittura andare oltre perché se fino a prima non c'era questo elemento nuovo come può essere quello del telefono oggi c'è questo elemento nuovo e sulla base di questo fare questa richiesta perché la rogatoria purtroppo per quanto l'avvocato è stato precisissimo non la possiamo fare noi difensori noi difensori possiamo sollecitare ma la richiesta di rogatoria viene fatta dal magistrato la domanda è questa quindi dovrebbe avvenire questo in questi stati non archiata il caso è quella di procedere appunto a dare questa rogatoria perché le autorità olandesi dove noi siamo stati sono molto disponibili c'è veramente la possibilità di trovare questo ragazzo perché la cella telefonica del suo telefonino ha agganciato proprio lì e da lì bisogna partire per riconsegnare questo figlio a Roberta e al papà Roberto intanto sentiamo quello che ci hanno detto queste autorità e speriamo insomma che questo filmato questo rvm muova delle coscienze guardate cosa possiamo fare per Alessandro Venturelli collaborare lavorare se necessario tutti i giorni tutte le ore con gli amici olandesi è quello che abbiamo cominciato a fare nel momento stesso in cui siamo stati interessati dal caso è un caso che mi colpisce molto anche a livello personale e ovviamente contribuire alla soluzione del caso entra in pieno nella missione che sono chiamato a svolgere qui come massimo rappresentante dello Stato italiano in questo paese così bello e così amico del nostro sarebbe importante poter vedere una foto di Alessandro su un canale olandese di una televisione olandese sarà possibile a suo avviso tutto questo? Io spero di sì non abbiamo ancora ottenuto una risposta positiva ma stiamo lavorando con gli amici olandesi appunto ottenere questo risultato il nostro ruolo è come sempre quello di agevolare la cooperazione tra le forze di polizia e quindi quello di fare delle richieste precise tra le forze di polizia attraverso la divisione sirene e in più la mia presenza qui anche conferma il fatto che seguiamo da vicino perché la mia funzione è proprio quella di agevolare di garantire la cooperazione di fare da liaison da contatto con le forze di polizia Allora partiremo proprio da qui da queste istituzioni la settimana prossima e cercheremo di capire se ci saranno degli sviluppi intanto ringrazio Roberta di essere stata con noi un abbraccio forte sai che ci siamo vicini grazie a te l'onora Ivan deve andare Ivan intanto come va ti abbiamo visto a balla che ci saranno